ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi propongo la seconda parte dei video haul per quanto riguarda i saldi e per quanto riguarda l'abbigliamento non l'ho fatto attaccato di seguito tra virgolette a quello di Stradivarius perché Fabiana perché veniva troppo lungo e non mi andava Fabiana Fabiana Lizzi la Lizzi mi sto attaccando aspetta che ti metto nel video Fabi sto facendo il video se vuoi salutare le mie iscritte mandami un messaggio vocale che lo pubblico ciao mi ha scritto comunque sei una pazza mi hai mandato vabbè lo sapevo che facevi il video sei una disgraziata aspettiamo il messaggio di Fabiana va bene non volevo fare un video lungo per quanto riguarda gli acquisti quindi ho diviso quelli per quanto riguarda Stradivarius e questi per quanto riguarda Piazza Italia sono stata da Piazza Italia per quanto riguarda i saldi sinceramente sinceramente sono rimasta delusa perché quando i miei figli mi hanno acquistato il pantalone con il maglioncino per quanto riguarda il Natale gli avevano dato dei buoni di acquisto dei buoni di acquisto per quanto riguarda una spesa di 15 euro potevi dare il buono di 5 euro e la somma ovviamente veniva di meno quindi 10 euro e 5 euro e meno però quando noi ci siamo stati perché noi ci siamo stati il 3 se non mi sbaglio quando proprio finivano gli sconti e questi buoni scusate quando finivano questi buoni noi ci siamo stati il 3 e potevi prendere la qualunque cosa tranne le cose scontate e quindi ci siamo trovati sinceramente male perché non sapevamo cosa acquistare perché le cose che ci piacevano erano quasi tutte scontate e quindi abbiamo preso un po di qualche cosa io e qualche cosa la mia amica ma alla fine ho regalato tre buoni a un ragazzo che stava entrando con la fidanzata credo che era che stavano entrando da Piazza Italia e gli ho detto guarda noi abbiamo finito allora vediamo cosa dice grazie a tutti video e tutti lo vedranno e un saluto a tutte le follower di Stefania mi raccomando non siete mai abbastanza quindi moltiplicatevi crescete e moltiplicatevi e iscrivetevi al suo canale un bezzo vi siamo miau miau è pazzo grazie Fabi ci sentiamo dopo ciao ciao e non mi ricordo più cosa stavo dicendo ah avevo regalato questi buoni a questi ragazzi quindi abbiamo preso qualcosa della nuova collezione perché questi buoni potevano essere utilizzati solo nella nella nuova collezione ovviamente abbiamo sussufruito del dello sconto sia io che la mia migliore amica perché lei doveva prendersi delle cose io l'unica cosa che ho preso scontate è stato questo cappottino che poi lo vedrete indossato perché veramente così non si capisce è un cappottino di quelli corti di tipo simil pannetto però abbastanza pesante ho preso una xl e questo veniva 49 euro e 95 io l'ho preso con il 50 per cento di sconto a 25 euro non so se si vede che è questo ed è un cappottino grigio io non ho cappottini grigi l'unico cappottino che ho ma non è così è nero mi piaceva tantissimo il fatto che era grigio e l'ho preso poi ve lo farò vedere indossato perché sinceramente così si vede malissimo e non si capisce bene poi ovviamente abbiamo preso come usufruire dello sconto abbiamo preso delle cose della nuova collezione che avevo visto adesso vedo anche dei fili tirate quindi mi nervosisco ancora di più abbiamo preso cioè abbiamo preso ho preso questo maglioncino che sono quei maglioncini che arrivano proprio alla cintura e ho preso questo colore tipo salmone che mi piace molto è normalissimo di cotone credo che sia un cotone pesante adatto diciamo alla primavera ed è così normalissimo con l'elastico anche in vita come nelle maniche a me piace tantissimo la trama che ha qui nella spalla mi piace molto e questo costava 14,95 quindi 15 euro e io l'ho pagato 10 euro con 5 euro di sconto ho preso anche il fratellino perché mi piaceva che c'era se mi sbaglio un giallo particolare o era verde ora non me lo riporto comunque la mia misura non c'era perché io prendo la xl c'erano le tre misure sml xl quattro misure scusate sempre a 14 euro e 95 ho preso il gemello però verde militare mi piace tantissimo io lo utilizzo tipo con le camicie di jeans così e poi il maglioncino che diciamo copre la camicia mi piace tantissimo oppure il polsino e mi piace proprio il tessuto del maglioncino la cosa che sono rimasta che mi è piaciuta di più di tutto per quanto riguarda piazza italia sono stati i jeans è difficile che acquisto jeans nei negozi perché di solito non mi stanno assolutamente quindi non li acquisto mai però questo mi è piaciuto tantissimo e l'ho voluto prendere ed è il jeans tipo zampa d'elefante questo è il modello mi piace tantissimo questo tipo di lavaggio proprio chiaro che io adoro vedete con questi colori ci sta benissimo io ho preso una 44 considerate che io di norma prendo una 46 perché sono dimagrita prendo una 46 e la 44 mi sta ma ho paura che adesso mi sia più grande però mi piaceva molto il modello mi piace che cioè io utilizzo i jeans ma non devo essere tipo un sassicciotto dentro un paio di jeans capiamoci questo non mi piace mi piace stare comoda nel jeans ovviamente non ci devo entrare io con 300 persone quindi voglio una misura normale se prendevo la 42 era stretta che non riuscivo a respirare bene quindi no io ho preso la 44 ed è questo modellino così mi piace tantissimo questo lavaggio come vi ho detto la parte dietro è in questa maniera e poi sono lunghi fortunatamente sono lunghi e alla fine arriva con la zampa d'elefante che io adoro in assoluto specialmente con gli stivali è una goduria mi piace tantissimo poi sono stata da tezenis e ho preso una sola cosa perché avevo fretta ci siamo portati la mia nipotina quindi ci stava facendo impazzire e quindi non siamo riusciti a prendere tutto quello che volevamo io volevo prendere anche le giabatte pelose e le calze per i miei figli tipo quelli a fantasmino quando mettono le scarpe quelle un po' più eleganti comunque e l'unica cosa che ho preso sono cioè è questo pantalone che sarebbe un fussò che è questo che ha la fantasia piede pull non so se si vede ma è una specie di metallizzato è un grigio viola metallizzato io ho preso la misura L non mi ricordo se c'erano altre misure sinceramente ho visto la L e ho preso la L era 16,99 euro io l'ho preso 8,45 euro con il 50% di sconto mi piace anche il fatto che ha questa parte tipo imbottitura di dentro quindi ti tiene caldo e mi piace mi piace mi piace non vedo l'ora di utilizzarlo e la fine della gamba non è tagliata a vivo che sinceramente non non gradisco ma è tagliata normale cucita e quindi la preferisco allora poi siamo andati per quanto riguarda stavamo facendo un giro e c'era la mia nipotina quindi abbiamo fatto un giro veloce veloce e siccome io sto avendo problemi di schiena e tutto la mia amica aveva visto questo paio di scarpe e mi ha detto no no la dobbiamo prendere perché è bellissimo siamo andati in questo negozio non so se il negozio si chiama proprio così perché non me ne sono nemmeno resa conto del negozio e la scarpa era messa in questo scatolo che si chiama skitcher street los angeles e sono queste qui scusate si vede il riflesso che sono queste ho preso il 39 caso strano ho preso il 39 e mi sono piaciute tantissime tantissimo e le scarpe in questione sono queste ve le faccio vedere così sono questo viola metallizzato e adoro tantissimo infatti ce l'avevo indossate cioè le sto indossando sempre mi piace tanto mi piace tanto anche il modello il modello è questo scusate ma le ho indossate quindi le tocco in questa maniera ma non perché siano lerce ma perché le ho indossate mi piace tantissimo ammortizzano molto il mio il mio corpo e veramente mi ci trovo bene mi piace proprio il modello la forma sinceramente io le ho indossate siamo stati a fare la spesa ieri e mi piaceva mi piaceva proprio come camminavo e infatti lei se ne accorta quando siamo salite dalle scale che io diciamo ero molto più agile anche nel movimento e quindi forse sarà anche con l'aiuto di questa scarpa se mi ci trovo se mi trovo bene con questa scarpa come mi sto trovando sinceramente bene credo che prenderò anche il colore nero o blu se mi sbaglio c'era anche metallizzato e le utilizzerò per tutti i giorni proprio se so che devo camminare tantissimo e niente adesso la vado a rimettere perché il mio piedino da fata sta sentendo anche freddo io che dirvi vi ringrazio vi ringrazio tantissimo perché vi sto vedendo molto più sotto nei commenti e quindi mi fa tantissimo piacere io vi ringrazio tantissimo per aver guardato il mio video come vi dico sempre potete scrivere la qualunque cosa quello che vi piace scrivete se vi sono piaciuti i miei acquisti se non vi sono piaciuti basta essere educati io vi ringrazio e vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao